Abbiamo il piacere di avere con noi questa mattina Ludovica Aramella dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, segreteria tecnica e riserva MAB, Unesco Po Grande. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie, grazie per l'invito. E allora parliamo di questo progetto che è stato presentato proprio sul posto sul fiume Po, Adotta lo Storione. Di cosa si tratta? Sì, è un'iniziativa che proprio all'interno di questo riconoscimento Unesco, l'uomo e la biosfera, abbiamo portato avanti come autorità di bacino distrettuale del fiume Po, insieme a Parco del Ticino e all'Università di Parma, con lo scopo di sensibilizzare e educare le nuove generazioni attraverso questa grande specie simbolo del fiume, che è lo storione, che è sempre stato associato alla natura, all'ambiente fluviale, ma anche alla cultura, alla tradizione e all'economia dei territori riveraschi. È un'educazione che attraverso questa specie li possa portare anche a scoprire quali sono le minacce e le opportunità e le risorse che il Po può avere ai giorni nostri, toccando con mano e quindi potendo vivere questa esperienza in prima persona da protagonisti. Cosa avete fatto con i ragazzi, con gli studenti a San Nazaro? Allora, sono intanto più di 300 studenti di varie scuole appartenenti appunto alle aree riverasche del Po, di province diverse, che sono venute dopo aver fatto delle attività in classe insieme agli esperti degli enti promotori, sono arrivati a San Nazaro a adottare il proprio storione, quindi ognuno di loro ha potuto dare un nome a uno storione che è cippato, quindi ha all'interno un chip che lo individua singolarmente e rilasciandolo in fiume potranno seguirne poi successivamente gli spostamenti lungo l'asta del Po. Qual è l'obiettivo, insomma il messaggio che si vuole lanciare ai più giovani? Il messaggio fondamentale è il fatto che i giovani devono imparare a conoscere i propri luoghi d'origine, imparare a conoscere cosa vive, cosa rappresenta il territorio del Po, perché imparando a conoscerlo e conoscendo anche quali sono le minacce e le opportunità possono rispettarlo, sentirsi appartenenti a questo luogo e imparare a capire come l'uomo può convivere con questo grande gigante che ci dà tanto ed è anche a volte in grado di togliere. Tanti ragazzi presenti nel Piacentino, c'è stato interesse quindi? Sì, sì, tantissimo. Devo dire che l'entusiasmo un po' ce l'aspettavamo perché avevamo grandi aspettative su questo progetto ma le sono state ampiamente superate perché i ragazzi forse anche dopo la pandemia o dopo tutto quello che è accaduto poter riscoprire di presenza sul campo questo contatto con la natura per loro è stato veramente incredibile e importantissimo. E viva sempre il contatto con la natura. Ringraziamo Ludovica Aramella per essere stata con noi della Segreteria Tecnica Riserva Mab Unesco Pogrande. Buona giornata e buon proseguimento. Grazie e buona giornata a voi.